Per tutti i contribuenti pescaresi della Tare è stata prorogata. Per le attività che sono rimaste chiuse a causa della pandemia ovviamente è stata sospesa. Sospesa vuol dire che il Comune tornerà nuovamente, come è successo per lo scorso anno, per decidere l'esito se dovessero pagare la stessa rata oppure addirittura non pagarla o pagarla in parte. Questa decisione è stata fatta appositamente dal Comune perché non vuole ingenerare confusione. Aspettiamo l'autorità garante, la RERA, che con il proprio circolare, come è avvenuto lo scorso anno, potrebbe dare dei ristori al Comune. In quel caso potremmo anche azzerare o ridurre la quota da pagare e quindi rifarci sull'ultima rata. Aggiungo che il Comune di Pescara ha praticamente anche sospeso il saldo della rata 2020 in aggiunta a quella della prima rata 2021. Questo per andare incontro alle esigenze delle attività produttive. Già lo scorso anno abbiamo caricato le casse comunali di un milione e due di mancate entrate, quindi pagando relativi interessi. Altra stessa cosa per questa prima rata e quindi è un aiuto finanziario ai flussi finanziari dell'attività. Sicuramente qualche critica è avvenuta da qualcuno dicendo che sono arrivati i bollettini. Questi bollettini sono arrivati perché il processo di postalizzazione che prevede l'invio, che non è obbligatorio tra l'altro del Comune, ai contribuenti è iniziato prima della decisione e della delibera successiva in Consiglio Comunale. L'azzeramento di questa attività ci sarebbe costato circa 40 mila euro e non ci è sempre giusto buttare perché sarebbero stati buttati questi soldi dei contribuenti. Però ovviamente la nostra Adriatica Risorsa, la società partecipata, ha inviato proprio nel giorno della scadenza, tramite PEC, quindi a costo zero, anche questo promemoria per le attività che ovviamente hanno più tempo per quelle che sono rimaste aperte fino al 15 di aprile e la sospensione integrale per quelle che ovviamente sono rimaste chiuse per norma oppure l'hanno comunicato.